Buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori, buongiorno e questa è la rassegna stampa di Fano TV, sono come sempre sette e mezzo del mattino e ci ritroviamo qua prima di iniziare questa nuova giornata di lavoro per leggere le notizie, le notizie sui quotidiani, lo faremo tra un istante. Adesso invece il santo del giorno, poi le previsioni del tempo, oggi è Sant'Orsola, Sant'Orsola ai compagni e martiri, il sole è sorto alle 7.29 e tramonterà alle 18.16. Andiamo a vedere adesso il tempo, intanto con la webcam della nostra webcam, no, questa è la telecamera, quella proprio puntata sul centro, sul pincio della città di Fano, vedete sullo sfondo oggi si vede bene anche Montegiove sotto i numerini della telecamera 001, là su in cima, vedete sotto l'1 c'è il colle di Montegiove, la collina di Montegiove con l'Eremo, andatelo a visitare, dei monaci camaldolesi. Ebbene, andiamo a vedere adesso invece il tempo con le previsioni della protezione civile delle Marche per la giornata di oggi, avremo cielo poco nuvoloso per il transito di nuvole medio-basse con temperature lieve diminuzione, i venti saranno nord-orientali, il mare è mosso. Per domani, giovedì 22 ottobre, avremo un cielo parzialmente nuvoloso con brevi piovaschi sulle zone appenniniche al mattino, le temperature sono in lieve diminuzione, i venti moderati in nord-orientali, il mare sarà mosso o molto mosso sulla costa settentrionale, poi invece venerdì 23 ottobre il tempo migliora, non ci sono piogge, però il cielo sarà così, insomma un po' variabile con temperature in aumento, eventi moderati da settentrione e sarà vento fresco sulla costa, mosso invece sarà il mare per i prossimi giorni ancora a condizioni di stabilità, soprattutto per il fine settimana, che sarà caratterizzato dal transito di nuvole in particolare per la giornata di domenica. Ieri sera, a un certo punto, quando già soprattutto i canali all news hanno cominciato a programmare la rassegna stampa, è uscita la notizia che ha pubblicato il resto del Carlino, in prima pagina la notizia che riguarda la salute del Papa, la salute di Papa Francesco, e sono quelle notizie che lasciano un po' così. E allora questa mattina cominciamo e guardiamola questa pagina del resto del Carlino. Papa Francesco è malato, scoperta mesi fa una macchia scura al cervello, il piccolo tumore è comunque curabile, per il luminare giapponese che lo segue non servirebbe l'intervento chirurgico. E il resto del Carlino questa mattina dedica alle pagine 2 e 3, 2 e 3 questa, tutte e due le pagine, questa notizia, che certamente adesso metterà un allarme, preoccuperà milioni di fedeli sparsi di tutto il mondo. E poi l'editoriale di Andrea Cangini, il dovere di scriverlo, naturalmente ci siamo posti il problema, scrive appunto Cangini. Scriviamo oggi sulla base di fonti certe che Papa Francesco ha un tumore al cervello e fino a ieri ci siamo domandati se fosse lecito violare in maniera così evidente la privacy di un uomo, un uomo di 78 anni che a dicembre compirà 78 anni. Abbiamo ritenuto che in questo caso il diritto alla riservatezza contasse un po' meno del diritto dell'opinione pubblica di essere informata, quel che vale per i capi di Stato e di Governo vale a nostro avviso anche per il capo della Chiesa Cattolica. In casi del genere la malattia cessa di essere una faccenda privata per divenire una questione di pubblico interesse in regione, dell'enorme responsabilità che grava su malati così straordinari. Naturalmente poi il giornale, tutto il giornale fa gli auguri al Papa. Ma c'è anche la notizia, qui torniamo ai fatti di casa nostra, che poi non è solo una questione di casa nostra perché quando parliamo di vaccini, del calo vistoso purtroppo di persone che decidono di non vaccinare i propri figli, a volte anche in modo irresponsabile, mi permetto di dire perché poi quando parliamo di salute in questi casi, di vaccini, si tratta non più di un fatto privato come può essere quello del Papa, cioè personale, che riguarda solo la salute di una persona ma riguarda la salute di tutti, quindi della collettività. So che poi dopo qui si scatena si scatena di tutto, però quando si parla di vaccini si parla di salute pubblica. E allora a Pesero il rifiuto di vaccinarsi è elevatissimo. L'Asur scrive ai sindaci siamo a rischio epidemia, pensate di rosolio morbillo, ma attenzione non sono cose da quattro soldi, non sono cose leggere, sono malattie che lasciano il segno, possono essere davvero pericolose, quindi vanificano anche i vaccini di chi poi si, le persone di chi si decide di vaccinare. Il capoluogo è ben sotto, di sotto della media provinciale, per esempio per il vaccino esavalente siamo all'87%, morbillo, rosolia, parotite solo al 62%. Così rischiamo situazioni molto pericolose. La fotografia è di Massimo Agostini e Rita Pelliccioni, responsabili dell'igiene pubblica e della prevenzione dell'Asur. Di fronte a questi dati, dice Massimo Agostini, sulle vaccinazioni abbiamo scritto a tutti i sindaci c'è un rischio per la salute pubblica, un rischio per la salute pubblica. Come medico, dice Rita Pelliccioni, come medico e come madre non mi sentirei sicura di fronte ad una scuola dove si riduce la percentuale dei vaccinati, ma soprattutto quello che vorrei dire io, e qui mi limito semplicemente a una battuta, evitiamo di informarci su Facebook. Facebook è un luogo, diciamo così, dove ogni tanto ci si va per farsi due risate. Uno guarda un video stupido, si fa due risate e finisce lì. Evitiamo di informarci attraverso i social network, soprattutto Facebook. Non è il luogo ideale per decidere anche di queste cose. Facebook, parlare su Facebook è come pretendere di fare un discorso serio in osteria all'ultimo dell'anno, quindi non è il luogo adatto. Quindi evitate di prendere decisioni di qualsiasi genere sulla base di ciò che avete letto su Facebook. La finanza, la guardia di finanza visita la Croce Verde e la Croce Azzurra. Sono stati visionati libri contabili, fatture e documenti per far luce su presunte irregolarità. Dopo la trasmissione televisiva delle Iene, ieri ci sono stati altri controlli, anche a One Emergenza di Urbino. Io non ho mai capito come si chiama questa cosa. One, vabbè, Emergenza 1, lo dico in italiano, non so se è così, di Urbino e di Asur. Poi sotto invece, sempre sul caso Ambulanze, i volontari dell'associazione Antares dicono noi non viviamo più da quando è stato trasmesso il servizio Cittaglia 1 operiamo, dice, è stato un inferno e si difendono quelli dell'Antares, dicono noi operiamo in regime diverso dalle Croce Azzurre, appunto Azzurre e Verde. Sul Dregaggio invece e sul Parco Pubblico tutto merito nostro. A Guzzi, la tua Fano, dice, la Giunta Seri ha ereditato tutto ciò che abbiamo fatto noi. A Urbino invece si discute, dopo la notizia pubblicata ieri dal Quotidiano Bolognese, si discute sulla vendita delle chiese, in particolare quattro chiese consacrate che sono in vendita, anche questa è una cosa che davvero fa venire la pelle d'oca. Sono quattro queste chiese a Urbino, per raccogliere e tirar su un milione e mezzo circa di euro, questa è la stima, naturalmente insorgono i fedeli, insomma qualcuno qua vicino fa tante storie, paranoia per una cappellina, in realtà poi a 40 km da qui si vendono addirittura chiese consacrate. Per farne cose, poi soprattutto a chi vengono vendute, insomma le vendiamo perché altrimenti rischiano di cadere a pezzi, i soldi per sistemarle non ci sono. C'è questa petizione, un edificio medievale in lista, intervenga il Vaticano e subito viene ritirato. Insomma, questa è la fotografia di quello che sta succedendo in una diocesi attaccata alla nostra, la diocesi di Fano. Andiamo invece adesso sul Corriere Adriatico. Allora, il Corriere Adriatico di Fano, trasporti sanitari, anche qui un blitz della Guardia di Finanza, accertamenti fiscali nelle sedi fanesi delle Croce Azzurre e Verde e poi di One Emergenza a Urbino. Sotto invece la Saipem, l'azienda che ha sede anche a Fano, deve restare in città per la tutela dei 1200 lavoratori. È stata approvata la mozione presentata dai consiglieri regionali che sono stati eletti a Pesaro. Poi c'è ancora lo spazio, e noi lo diamo sempre molto volentieri, una gara di solidarietà sempre per il piccolo Federico, che ripeto, deve raccogliere, la famiglia di Federico deve raccogliere 30 mila euro, euro più euro meno, per curarlo, per curarlo all'estero, per queste cure. Quindi molte associazioni, ne stiamo ricevendo tantissime di segnalazioni, noi promuoveremo senza farci problemi di pubblicità o quant'altro, promuoveremo chiunque decida di realizzare o di raccogliere fondi per la famiglia di Federico e per curare il piccolo, che ripeto, fra qualche mese, il 24 dicembre, compierà 5 anni e che è malato di una malattia fortemente debilitante, che è il morbo di Crabbe. Ride vandalico, tagliate le gomme di 6 vetture, è successo in un parcheggio vicino al Palazzo di Vetro a Fano, tra i proprietari dei veicoli danneggiati e anche tra i dipendenti del distretto sanitario. Sul settimo assessore invece il sindaco ancora non decide, in consiglio solo il cambio del presidente per la nomina di Fanesi e il rimpasto delle deleghe si prolunga dunque l'attesa. Nella rimodulazione delle competenze potrebbe finirci anche la gestione della viabilità. Seri invece faccia sloggiare il Grisli, ora il Comune non ha più scuse nel ritardare a risolvere il problema dell'occupazione abusiva della casa che si trova all'interno del campo di aviazione, se prima non poteva perché quella casa era del demagno, oggi con il passaggio di proprietà, quindi quella casa adesso è formalmente del Comune di Fano, Stefano Guzzi della Tua Fano, Maria Antonio Cucuzza di Forza Italia, Davide Del Vecchio dell'Udc, Aramis Garbatini e Alberto Santorelli di Progetto Fano chiedono che adesso quello spazio lì, quella casa, torni libera e a disposizione di tutti. Un carro nuovo invece per quanto riguarda il Carnevale di Fano, un carro nuovo e tre rifatti, risistemati, riadattati, restyling, Prova di mediazione tra la carnevalesca e i cecchini, cioè tra la carnevalesca, quindi i cecchini e i carristi, cecchini aggiungerebbe al budget, ai soldi disponibili altri 10 mila euro, il Presidente spero tra un giorno o due di poter dare il via alla fase organizzativa e quindi, insomma, di fare in modo che non ci siano intoppi o ritardi nella programmazione del Carnevale del prossimo gennaio. Andiamo un attimo sull'altra pagina della Fano, Valle del Cesano, del Corriere Adriatico, perché allora dal servizio civile all'Africa Chiama, otto giovani finiscono in televisione, si occuperanno di educazione alla mondialità, rivolgendosi agli alunni delle scuole elementari. E poi sotto, da Pergola, tutela dell'ospedale, solo passi falsi, la minoranza accusa Baldelli anche per il silenzio sulle azioni della Regione e le nomine dei tre primari. Da Orciano, invece, rifiuti, l'ASET ricorre al TAR, nel Mirino finisce l'Unione Roveresca, contestato il servizio gestito in autonomia dai quattro comuni. Da Marotta, invece, Vela Club Marotta, uno storico risultato, su 1600 equipaggi, a loro va il 62esimo posto. La pagina di Pesaro del Corriere, invece, Pesaro, Tavuglia, Rimini, il triangolo d'oro dei motori, una galassia di storia, campioni, impianti e saperi, che può dialogare mettendosi insieme. Mister Brandini afferma il nuovo centro storico, affidato a Morosini il compito di armonizzare la funzionalità dei contenitori nel cuore della città. Poi andiamo sull'altro quotidiano, cioè il messaggero sui migranti, arriva la bacchettata del prefetto Luigi Pizzi, il quale dice, il quale si schiera contro i sindaci, o meglio, quei sindaci, che stanno sollevando problemi sul numero dei rifugiati, perché passerà da 483 a 890. E dice Pizzi, il prefetto, è inaccettabile che questi sindaci si mettano, insomma, di traverso. Sono atteggiamenti non adeguati alla civiltà di questa provincia. Sotto, invece, la difesa di colui che ha preso la bottiglia, stiamo parlando del tentato omicidio di Misano Adriatico, questi due amici di Gabice, uno cerca di difendere la fidanzata del suo amico, e quindi, insomma, dice adesso, ero accerchiato, mi sono difeso, ha detto di aver colpito perché si è sentito accerchiato. Beh, insomma, sono quelle dichiarazioni che arrivano dopo giorni, e dunque sanno molto di cose studiate un po' a tavolino, insomma, con l'avvocato, sono quelle cose un po' così, le versioni che cambiano stranamente dopo qualche giorno, ma si capisce benissimo che sono cose studiate a tavolino, adesso per alleggerire un po' la situazione, un po' il tutto. Vabbè, comunque, il triangolo d'oro dei motori adesso in realtà, insomma, Matteo Ricci sta cavalcando ormai, sta cavalcando l'onda, insomma, non è più Pesaro soltanto la città della bicicletta, la città della musica, ma adesso sarà anche la città dei motori. Beh, certamente ha della storia, Benelli per esempio, ma poi facendo il triangolo, il triangolo qual è? è Pesaro, Rimini e Tavuglia, insomma, è veramente un bel triangolo. Secondo me, anche a Fano, per esempio, tanto perché siamo un po' invidiosi di Pesaro, certamente, però anche a Fano, se uno si mette giù e si mette a ragionare un attimo, vuoi vedere che scappano fuori e vengono fuori situazioni da valorizzare, come sta facendo Matteo Ricci, perché di fatto sta facendo questo, cioè Benelli è lì da una vita, così come Tavuglia e tutto il resto, insomma, si tratta solo di valorizzarli e di non fare come invece spesso facciamo a Fano, dove pensiamo solo al nostro tricello, ognuno pensa al suo, invece, vedete, si sta pensando di fare cose insieme, quindi guardiamoci intorno anche noi e vediamo che cosa si può fare insieme a qualche altro, magari, comune, qua vicino, eccetera, eccetera. Cominciamo a valorizzare le cose, i tesori che abbiamo. Banca delle Marche, Ceriscioli, certo che mi sono mosso anche se con discrezione, salvataggio, il governatore risponde al Fanese Carloni, che ne sa che cosa ho fatto io sotto traccia per Banca Marche, aumento di capitale, linea di credito dei primi sette istituti italiani. Poi sui migranti abbiamo già detto che il prefetto Bacchetta i sindaci, e poi, sull'ultima pagina, andiamo sulla pagina di Fano, anche qui, su Fano tiene banco il Carnevale e i carristi che dicono di essere pronti a presentare questi bozzetti, i bozzetti sono i disegni, cioè quello che vorrebbero realizzare poi di fatto con la carta pesta. L'intesa con l'ente carnevalesca e con il Comune sembra ormai ad un passo dall'essere raggiunta, i maestri dell'Associazione contano di consegnare i disegni già in settimana e dunque, dice Mariotti, uno dei carristi, la nostra è una proposta di stimolo, siamo abituati ai sacrifici e le accettiamo anche questa volta. Oggi poi invece c'è questa seduta del Consiglio Comunale alle 18.30 in Via Nolfi, dove l'ordine del giorno ci sono naturalmente le dimissioni di Renato Claudio Minardi, che lascia la Presidenza per concentrarsi sull'incarico in Regione. Sarà sostituito da Rosetta Fulvi con ogni probabilità, ma non dovrebbero esserci sorprese. Poi la Regione si mobilita per tutelare la Saipem, l'impegno proposto da Minardi sottoscritto all'unanimità ieri in Consiglio regionale. Torna a colpire invece il vandalo che buca gli pneumatici, in pieno giorno ha forato sei gomme di altrettante auto parcheggiate lungo la strada. Poi domani la nomina del settimo assessore, dicevamo a Fanesi, andranno probabilmente i lavori pubblici, la protezione civile, la viabilità e i servizi cimiteriali. È tutto, grazie per averci seguito. Buona giornata e a domani. Grazie a tutti.